Bella, piena di opportunità, terreno fertile, si vive bene, si mangia bene e si lavora. L'Emilia Romagna. Industria e turismo, da sempre i pilastri di questi territori. Ma nel nuovo millennio, niente di nuovo. Questa regione ha la possibilità di essere il motore trainante della trasformazione digitale. Architettura, storia, cultura, sembra creata per accogliere realtà di valore, dove tutto converge verso grandi risultati. Regione protagonista per bellezza e arte, umile e discreta nel successo imprenditoriale. Ci sono città che hanno portato nel mondo un nome, un marchio, un prodotto. Oggi c'è la possibilità di avere la soluzione a portata di mano, utile a migliorare la vita delle persone. Lo strumento che può cambiare il mondo. A noi non servono ciminiere, macchinari pesanti, né capannoni invadenti. Noi siamo quell'industria che fa bene all'ambiente. Queste terre, che hanno visto nascere imprese vincenti, ora hanno l'opportunità di far fiorire la prima big tech nata in Italia. Grazie a tutti.